Stasera vedendo un po', senza offesa per nessuno, erano quattro gatti in piazza, tranne i candidati, non vuol dire molto, però può essere un sintomo. Sì, ci vediamo il 10 giugno sera e vediamo se i quattro gatti in piazza saranno anche i quattro gatti. Se sono rossi e fioriranno. Esatto. Bocca al lupo. Viva il lupo.